Un altro personaggio dell'undicesima edizione, io chiamo in scena, Cochre! All'anagrafe Francesco Tartaglia. Allora, anche per te, dopo l'esperienza di Roma dell'undicesima edizione, ti ritrovo qui a Sanremo. Esattamente. Come mai? Beh, intanto per il piacere di rivedervi tutti, a te in particolare e anche agli altri artisti che hanno partecipato al premio Lucio Dalla all'undicesima edizione. E poi per far ascoltare questa mia canzone che ho scritto un po' di tempo fa, quando aveva avuto un cambiamento nella mia vita, adesso ho avuto un altro cambiamento nella mia vita per cui l'ho rispolverata e il messaggio è sempre lo stesso, allora come adesso, cioè che di fronte a un cambiamento occorre affrontarlo con ottimismo e con l'intrinseca convinzione che il domani sarà migliore. E quindi adesso anche tu ce lo racconti in musica. Titolo del brano? Musica nuova. Cocker, Francesco Tartaglia. Applausi. Grazie. Quanto la soldi mi rabbia, tutto quello che ho, ti assicuro che basta per crederci un po' nella vita. Ancora giovano, questa vita che fa sempre più difficile da inseguire. Luci della ribalta, cartelloni e champagne, tutto quello che conta è questa lì, anch'io che scompigliare, e gli occhi o langui mi commuovono ancora. Vento e brividi sulla pelle, e tu aspettami, se vuoi arriverò. Ci sconnetto con le unghie e cuore di denti a prenderò, e tu scrivimi, se vuoi risponderò. Ma se in fredda in quest'inverno per noi. Una musica nuova, scritta apposta per te, scorre dentro le mani dal cuore. Sì. 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 Sì.